Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco, finalmente una buona notizia per l'utenza marittima, si sblocca la situazione per quanto riguarda i corsi di nuoto e boga. Sì, ringraziamo la capitale di Porto che dopo otto mesi hanno dato questo sblocco per fare questi nuoto e boga perché li stanno facendo pure in tutta Italia, tra Genome, Fiumicino, Piano di Sorrento e si è sbloccato pure qui in Campania. Io faccio un appello al nostro comandante della capitale di Porto, ho visto che il 24, il giorno 1, il giorno 4, di fare 1, il 24, il 25, il 26 perché abbiamo tantissimi e tantissimi lavoratori e ragazze che si devono fare la matricola, solo noi ne abbiamo più di 150. Un appello ad accelerare i tempi? Di accelerare i tempi? Sì, che possiamo avere altri corsi subito perché noi ne andremo a fare al mare, al litorale. Un appello importantissimo al comandante di dare una mano in più, dare un paio di giorni in più, 24, 25, 26, 27, come vogliono loro, non aspettare una settimana per fare questi corsi. Ricordiamo che questi corsi sono necessari per potersi imbarcare? Sono necessari per fare la matricola nuova e cercare con la benedizione del Signore dove cercare chi è armatore potrebbe imbarcare. Questo ne fa l'appello a tutti i nostri associati che il giorno 17 avevamo un presidio alla capitale di Porto, dove il presidio è stato tolto da mezzo che siamo stati fortunati dicendo che si sono aperti in notevoca. Ma lei oggi attraverso le nostre telecamere vuole lanciare un appello alle istituzioni anche per fraffronte alla grave piaga della disoccupazione per il settore marittimo in questo momento? Ci sono tantissime navi da cruciere che fra poco dovrebbero andare all'inizio per andare al lavoro. Avete voi la possibilità, la forza politica, non solo regionale ma nazionale, di prendere tantissime ragazze di giovani che dovrebbero fare delle chiamate uffici di collocomento che sarà difficile andare a imbarcare perché ci sa quanti turisti andranno in vacanza perché più turisti andranno in vacanza più alzano le tabelle di armamenti di tante società che imbarcano più giovani e più possibilità di imbarco. Questa qua ce ne sarà pochissimi. Io dico questo appello di dire guardate, ora inizieranno navi da cruciere, verranno qua nel Mediterraneo, in Italia, verranno in Italia, sveglia perché possiamo imbarcare tantissime ragazze giovani e tu prendi un padre di famiglia, ragazzi, devi imbarcarci, navi da cruciere, ti devi fare 4 mesi e 2 mesi di disoccupazione, fate lavorare 6 mesi e saremo di nuovo, di nuovo, il motore, il cuore della città, dell'economia. Qua è tutto fermo, è tutto morto, non c'è lavoro, disoccupazione, magazzini chiusi, solo che ci stanno queste navi da cruciere che possiamo imbarcare moltissimi, italiani, non siamo razzisti, vogliamo che tutti gli extrocomunità, il nostro solo che è stato sempre questo, vengono pagati come gli italiani e vogliamo pure che si sta liberando il fatto dei vaccini. Sulla piattaforma, voglio dire una cosa a voi dei tifusiti e vi ringrazio, che tutti i marittimi non sanno chi è marittimo in continuità, rapporto di loro, CRL, abbiamo il codice fiscale dove sta scritto giù in basso, Regione Campania, non è buono il nostro codice fiscale, si fa la richiesta, non si fa la gestione dell'entrata, non si fa l'ASA, ma si fa il SAS, ex Cassa Marittima. Si fa una domandina, potete, nella nostra associazione, la facciamo noi, dove noi li mandiamo direttamente al SAS di Napoli, loro ci daranno un codice provvisorio dove noi vi metteremo sulla piattaforma, potete accedere subito, e poi vi arriverà dall'acensia dell'entrata il nuovo codice fiscale TEAM a casa direttamente. Questa è la procedura, nessuno si deve togliere il turno particolare, nessuno deve fare un licenzio, perché qualcuno ha avuto una notizia, dicono che vi dovete cancellare il turno particolare, tanti lavoratori di Costa Croce, non vi permettete, ma la cosa utile è che dobbiamo fare la richiesta, perché il nostro codice fiscale non è buono. Noi dobbiamo fare la richiesta e ci daranno un codice provvisorio per richiedervi subito per mettere sul piattaforma, e così poi vi arriverà a casa dalla agensia dell'entrata.